Partecipa al primo Mantua Music Festival. Nel 2004 viene e riceve il premio come miglior artista emergente al premio Tenko. Ha esordito nel 2005 con l'album La musica è un pretesto La sirena una metafora accompagnato dall'orchestrina Pontiroli e registrato presso lo studio Mezzanima. Il secondo lavoro è del 2007 Chagrin Damur sempre accompagnato dal gruppo che lo segue da anni e che ha cambiato nome in orchestrina a Capulco. Partecipa al Festival di Villar conati del 2010. L'anno successivo pubblica il suo terzo album e allora pensai che mai. Il 2013 dopo una nuova metamorfosi vede nascere il primo progetto solista che porta alla luce nel settembre 2014 il quarto album dal titolo Applausi a prescindere. Il suo stile musicale caratterizzato da una voce calda e da una forte componente ironica rimanda ad atmosfere retro viene accostato a quello di cantautori come Giorgio Gaber, Ivano Fossati, Paolo Conte o Vinicio Capossela.